ma benvenuti ragazzi sul canale di gtmx channel siamo tornati qui su star wars battle provociamo oggi una modalità cargo ossia una modalità in cui bisogna rubare il carico di nemici e proteggere il proprio io ero da tantissimo tempo che non giocavo qui ho lasciato un po' aruginito eccolo qua guarda qui basta mi ero giocando molto so quello di un livello abbastanza basso però qui nel frattempo ucciso e un ucce già arrivare un altro mi è andato a finire un pazzo guardate qua i due ragazzi c'erano a 25 miglia dunque mi ha dato un'assistenza uccisione vediamo ragazzi qua è lignato fa un c***o ho visto un altro non si riusciamo a prenderlo si ah vabbè subito ok che vai vai che esistono io e ragazzi solo 5 di vita ho e qui non si ricarica ah non si ricarica come non è guardate qua andiamo a buttare una bombetta no mi ha chiamato forza misera ce la sto facendo con la chiamata ragazzi si chiamato nel frattempo bonus colpo alla testa no però assistenza uccisione perchè io cerco di tenere l'occupato mentre magari ecco qua era ancora lui ragazzi ma questa volta l'ho chillato e quindi va fanculo no dove ha fatto di morire? muori eh dove vai? guardate come difendo ragazzi sto difendendo l'ascoltato comunque anche se sono morto ho difeso il mio compagno che è da ascoltare quindi grande lavoro di squadra ma ecco qua ancora il nemico sconfitto nonostante non abbia un livello altissimo con molti altri riesco comunque a chillare ecco qui muo arriva qua ah uh qua ci hanno chillato con una bomba bravi bella mossa questa qui ah ecco qua ha chillato ha provato con una bomba ma non ci è riuscito questa volta la prendi vediamo che lo piano vediamo non ci nessuno qua l'ho chillato ragazzi e ora no non ce l'ho fatta vediamo a chillare dei ragazzi no da dietro mmm bomba di pescita ragazzi guardate questo chillato quasi mi ha quasi distrutto ma non ce l'ha fatta assist le incisione mi ha quasi ucciso qualcuno che ora vedo chi è questo se ti togli se ti togli ecco ecco però ragazzi ho contribuito a uccidere questo qui che mi stava sparando da dietro stanno prendendo piede e la cosa non mi sta piacendo ragazzi sinceramente l'ho il carico è nostro eh lo ucciso anch'io ci siamo uccidissima l'importante che lo ucciso anch'io giusto in tempo ok ma bisogna cercare di giocare tutti insieme vedete e scortare magari chi ha più sul carico in questo caso è stato chillato vabbè ecco si è prevetico ma nel frattempo avevo il mio compagno no ma come ha fatto a non morire con uno ragazzi è rimasto con uno questa è la differenza delle armi guardate qua che avevano messo la mina di prossimità ai bastard ma non è stato subito ed ecco qui è ucciso anche lui però ucciso anche lui no 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 da dietro eh da dietro da dietro ecco qua muori e abbiamo vinto ragazzi scorto in portature ce l'abbiamo fatta ecco qui ha fatto 20-20 quindi mi uh paleta questo è stato di terzo della mia squadra e abbiamo vinto ok ragazzi allora spero che questa modetta vi sia piaciuta questa si chiama appunto cargo se è così ragazzi mi raccomando commentate lasciate like, condividete se non lo avete fatto iscrivetevi al canale qui dal giorno del 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video bella